Oggi è una bella giornata, guardate le gambe sulla strada, faccio la passeggiata, vedo donne bellissime, che cazzo di culo che amo, mi dico. Mi piace per la pace e guardare le tizze belle, sogno da una bella signora e farci pace da buono. Fare l'amore con una donna fa bisogno perché fa bene. Signora com'è il tuo nome? E lasciami il tuo numero di telefonino. Signora com'è il tuo nome? E lasciami il tuo numero di telefonino. Signora com'è il tuo nome? E lasciami il tuo numero di telefonino. Ciao! Ciao! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Signora com'è il tuo nome e lasciami il tuo numero di telefonino Signora com'è il tuo nome e lasciami il tuo numero di telefonino Signora com'è il tuo nome e lasciami il tuo numero di telefonino Signora? Signora? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora oggi è una bella giornata, guardate le gambe sulla strada. Faccio la passeggiata e vedo donne bellissime. Che cazzo di culo che è? Mi piace per la pace e guardare le tizze belle. Sogno da una bella signora e farci pace da cuore. Farlo l'amore con una donna fa bisogno perché fa bene. Signora com'è il tuo nome e lasciami il tuo numero di telefonino. Signora com'è il tuo nome e lasciami il tuo numero di telefonino. Signora com'è il tuo nome e lasciami il tuo numero di telefonino. Ciao. 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 Ciao.